Le donne in genere sono molto, quando devono fare carriera, sono molto più spietate degli uomini. Questo capita nelle redazioni dei giornali, capita al governo perché le donne sono poco presenti in politica, pur essendo mediamente più di buonsenso, hanno delle delle doti che sarebbero utilissime, perché si ammazzano nella culla tra di loro. Questo è il punto. E questa è la grande tragedia femminile. Per una che fa carriera, sono delle sopravvissute quelle che arrivano a fare carriera. Io ho una redazione di sole donne in cui c'è un solo povero disgraziato, un maschio solo tra gli inviati che non conta niente, poveretto essendo bravo. Ma io non entro nelle vicende, ma il poco che mi arriva, ragazzi, si bastonano, si bastonano tra di loro, capisci?